Figliola, un giorno potrai esplodere come noi Ma io volevo fare l'usciere Ma, esplodi male Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Riafebba Grabbeard Eh, guarda, non c'è quella buona fiume, la clac, la clac, mar Oggi siamo qui tutti e cinque, che è successo non se sa E ci sono due banane Sì, io sono banana 1 E lui è banana 2, dove è banana 2? No, è in creeper questo È creeper 2 Lui è banana 2, vai via No, io sono banana 1 Vabbè Non perdiamo tempo in ciancio e andiamo a mettere la testa Allora, la testa, la testa, la testa Vediamo un po' di chi è Chi è? Allora, la testa è di Frenchiex1473 Mazza che nome lungo Che è? Perché ho visto un Morduk? Oh, allora Vediamo che skin c'ha No, non ce l'ha la skin Questa, stiamo a fa scorta di teste senza skin al secondo piano, eh Sì Ok, Frenchiex1473 E la madonna Metto solo Frenchie, ciao Vai, vai, scrive Però ci sta Rabbo C'è creeper Il bello è che Isingar permette se adesso con la cosa da Morduk Sta senza armatura Quindi se faccio così Rimane con cuore Merda, stai rimessa Allora Ok, che quest facciamo? Oggi, invece di fare quest Viste che dobbiamo andare a finire una quest Nella prossima puntata E ci cominciamo a bardare un pochino Cominciamo a fare roba più OP di quella che già abbiamo Ah, certo Eh beh, sembra giusto Sembra giusto, no? Allora L'arma OP ce l'abbiamo Ci manca solamente l'armatura E appunto Adesso andiamo a farci l'armatura più OP che ci sta qua dentro Più più OP, capito? Più più OP E qual è quella più OP? Allora Più più OP per tutti Eh, più più OP Allora Si chiama Power Sweet se non erro Infatti si fanno tutti i quattro pezzi Più la manina E si fanno con un oggettino Si chiama Power Armor Tinker Table Molto facile da fare Però il nome è più difficile che Che da utilizzare effettivamente E allora Intanto le parti si possono craftare molto facilmente Con dei wiring che si fanno con copper E silver Quindi sono abbastanza veloci da fare Il silver non ci manca Come possiamo ben vedere E il copper Vediamo un po' se c'è Dove è andato a finire il copper? Oh, mi è sparito il copper Una volta stava da queste parti il copper Che si è fregato il copper? Aia Mi stanno a menacqua Questa era Questa era Belze Ci credo Ci scommetto Si No Non è vero È Belze da Creeper Guarda è barbona Maledetta La cosa bella è che No È bello scambiare Belze Per pesi Capito? È bellissimo Ah, ok Allora Come era silver e copper Giusto Ho detto bene Già mi stai facendo sbagliare È sempre colpa nostra È giusto Così È giusto Così Allora È 3 6 di copper 2 di silver No, 3 di silver Centrali Ok Quindi così Tac Ne fa pure tanti Ea Voglio a te affanne Le armature qua Le faccio per tutti Raga Dico Più armature per tutti Più armature per tutti Hai controllato la ceste sotto Cosa? Quanto cacchio ho farmato Eh, l'ho vista L'ho vista C'è un'infinità di roba C'è stai Un'infinità di roba Ah, mi serve del foro Visto che ci sta qua Me lo prendo da qua Grazie 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 Della tua farm Siamo tipo 3 stack da 64 Cavoli Lei è molto gentile Prego Potrei Potrei aprire Una fabbrica E rivendermelo Sembra giusto Sembra molto interessante Ascensore che non mi fa salire E mi fa salire due Ma che cacchio 1 2 1 2 3 4 E 5 Allora Una power suite Una power suite Una power suite Una power suite Pensate furbe Ce ne stanno 5 scarpe Qua sotto Unite la pia Ok Pensate furbe E' bello il tarino Pantaloni 1 2 3 Ma il bello è che tu dici Noi Quando non siamo state noi 5 Deve siete essere furbo Allora Meritate un paio di scarpe Che una è mia E poi Io ho preso due scarpe Anzi tutte le scarpe Ma sai che so Piedi questi E Isingale ha preso tutti i pantaloni Bene Io non c'ho nulla Io vedo tutte le scarpe Aspettate Una Io mi sono messa le mie scarpette Guarda che piedi brutti Che c'ho Poi Cappelli A chi manca i pantaloni 1 2 Io non c'ho i pantaloni Io ce li ho Io ce li ho Guarda Ho molto freddo E 5 Allora C'è i piedi di Godzilla Ok mi metto l'elmo Che mancano i piedi 2 Io ce l'ho 3 A me ne mancano E 4 Ho dato le testa Io ho preso due elmi A me ne mancano le scarpe Ok perfetto Sto diventando Robocop E solo tu eh A me ne manca la cesta E la cesta la stoffa adesso Aspetta Datemi un attimo di 3 Ma che figata la power suite Perché non è Che fa la power suite Io ne so Sembrata tutti Degli alieni Ora ci manca la navicella Allora l'armatore Possiamo fare la simulazione Mi serve altro forro Io sono tuo padre Mi serve del forro Mi serve del forro Eh sta giù Ok preso 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 Oh Allora 1 2 1 3 4 Perché la quinta ce l'ho io Ok Perfetto Allora questa è tutta la power suite Quella di base Quindi viene fatta così Potete anche cambiare i colori Con l'attrezzo che adesso creo Allora Oh io ho un colore diverso Facciamo i power rangers Sì che figa Eccola Taglia Allora La vacca Il mio è blu Allora Ferro Io sono rosso Ferro Io sei una banana gialla Tu Ferro Oro e vetro Oro ce l'ho Anzi no La voglio fare io quella rosa Ci assomigli tanto Però è una banana gialla Quindi si fa la power ranger gialla No Ci hanno nato le banane Quindi la fa lui il giallo Ok Lola Allora Allora Vediamo un po' Quanto manca per questo Allora Electrum Questo si fa con il silver E la redstone Allora Silver c'è Mi servono due di redstone Ci stanno qua Sì Perfetto No stanno sopra Dove stanno qua Sì stanno qui Lo trovate Lo trovate Zitto Ma Chi ce l'ha messo qua Eh magia Magia Eh un po' Magia per mordo Eh sì Ma mi mancano Mi mancano smerando Mi mancano smerando Sta sopra lo smerando Sta sopra Vado a prendere Eh ok Eccola Ecco l'arrivo Oggi io e Sì Siamo sincronizzati nel parlare Facciamo il contrario Dov'è Dove sei Sta qua Rincoglionito Beccate sta pioggia Dei smeraldi in faccia Che schifo Perché provo in faccia Gli smeraldi Perché Messa di porno Quindi Ah ok Capisci Una cosa Una cosa tira l'altra Una cosa tira l'altra Molto equivocante Io voglio Colore la mia armatura Allora Questa è la power Oh 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 Non c'è Guardate che bello Guardate che bello Ma che è Bello Ma che fa Per potenziare Tutti gli equipaggiamenti Giustamente dovrete avere Quegli oggettini Per fare i potenziamenti Se non erro Da qui si può cambiare Anche il colore Su visual Andare sulla Nella schermata Su visual In alto a destra Potete scegliere La combinazione dei colori Wow Mazza però Che strano Che cosa Non so se Colore è blu E devi alterare le scale Di rosso Verde e blu Ho capito Ma non si capisce niente Cioè non sai come viene Allora Armatura Pensi di mettere l'armatura dentro Visual Eccola Sì ok Devi cliccare sull'armatura E ti dice i colori dell'armatura Tu li selezioni E li puoi cambiare colore Oddio Fermi raga Sono Batman Guardatemi 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 Aspettami Ti devi guardare Mordi Mi farò vedere tutto Aspetta Ti guardo subito Vai Oddio Non te vedi Non te vedi Mamma mia Io che so Solitario Nella notte Va basta Cambi un pulcino Come su un pulcino Non lo so Non ti si vede la cesta Ciao Esi Guarda che figo Sei rimasto come prima Non hai cambiato i colori No ho cambiato i colori Sono grigio Mamma mia Dal bianco a grigio Scusi È più figo Ah non mi sono dimenticato le scarpette Le scarpette sono bianche Per caso No sono giusti Allora la cosa bella di queste armature Intanto che finiamo di Di crearcele Che abbiamo fatto tutti dei colori diverso Alla fine E Più che altro Ecco ci sono questi piccoli oggettini Che possono essere aggiunti Che vanno ad aumentare La resistenza L'energia elettrica Che possono portare Il visore notturno La velocità Il volare L'auracannon Il compasso Un po' tutto Possono fare queste armature potenziate Giustamente Più le potenze Più si appesantiscono E più vai lento Quindi bisogna anche Che regolasse ragazzi Che senso? Nel senso che Se praticamente fate troppi potenziamenti C'è il rischio Che praticamente Vanno in sovraccarico Oppure non riescano a trasportare la roba Perché se si caricano Di elettricità Ah capisco Sì adesso vado qua La posso caricare Dentro la caricabatterie Si dovrebbe caricare? No Non me la carica Barbone Non carica batterie Perché non me la carica? Non me la caricata? Uffa Mi sa che devo fare Quella apposta per caricarla Ah no Perché non c'è la batteria Sono scemo Giustamente è da inserire la batteria Anche per caricarla Se no Non la potete fare Allora Un altro oggettino Sempre di questa mod Molti di voi la conoscono Sicuramente è la manona Che è la power fist La power fist Si fa con Un 3 di ferro Un electrum E un weering Che è sempre il filo Che abbiamo visto prima Quindi vediamo un po' Se c'ho già tutto Nell'inventario No mi manca l'electrum Che sta qui Electrum Vieni da me Vieni da me Ti porterò lontano Perché La vita è così bella E lo sai Eccolo qua Una Me la faccio per me E ne riesco a fare un'altra Deremo E faccio pure l'altra Ti è Ti è No Devo andare a finire Eccola Ti è Ti è sì Tu ha No sei Cos'è No no Dimmi che mi hai dato quello che penso No l'ho dato a Belze per sbaglio Ti è pigliatelo te Belze c'è una 2 Eh Belze Passa la queenfer Dio È la fine È la fine Ancora non è potenziale Quindi non dovrebbe sparare Lo sai Aspetta voglio provare Non spara Ok È da metterci a potenziamento Se no non spara Ok Ti sei salvato Mi sono perso il mio libro Delle quest Belze l'hai preraccolto Tu pensavi che sbaglio Controlla Non mi apri più la E Perché sei buggata Oh Sì mi sa di sì Ma la mia chest Che chest Ce l'hai la chest Te l'ho fatta prima Ah ok No no Non la vedevo più Ah ok Me l'ho preoccupato che non te l'avevo data Mi sembra di aver te l'ha data La chest Oddio Non so fare brutti I doppi sensi Barboni Non ci sono sensi È causato il mio amore No 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 Sto entrando Sta entrando Esco entro Sono male anche in quella maniera Uno due tre Manca solo un'arma Che è quella di Hildan Hildan Mi sto cadendo nel vuoto La vuoi la manonna Dove sei Hildan Sono qui a rifarmi l'armatura Guardalo come se la staffa multicolore Sono bellissimo Io sono bellissimo Eh lo so lo so Ve li do la mano Io sono bellissimo Ma la manina Come mi sembra? Allora Io direi Voglio vedere se posso fare il potenziamento della mano No Con la mano sei bruttissima Ti lo so Che se può cambiare Fra che sta diventando una banana Oh mio dio Si può cambiare pure il colore della manona Mi sa fare No Io ci ingarciamo uguali Sono simili Sì Ci ho sperato di fare la manona No che figo che sei Iasi rosso Ma la mano la posso colorare No la mano rimane bianca Tieni Ma da così Chiunque non c'eva la mano Aveva dato l'altra Che hai fatto? Bels e Krasho Ma guardali Sì Che non mi apre l'inventario Golle Allora Manona 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 L'unica cosa della manona Che volevo far vedere Per chi non la conosce ancora Che sicuramente tutti voi la conoscono E il plasma launcher Doeribes Questo plasma cannon Però ci vogliono due forze field E un hv Allora Vediamo un po' se gliela famo Forze field hv Falli ma non penso Forze field Vediamo un po' come si fa il forze field Eccolo qui E l'hv Mmm No penso che quelli li faremo più avanti Perché ci vuole il tesseract Per fare il forze field Quindi mi sa che ci vorrà una puntata Solo per fare lo sparettino Quello lì al plasma Ok Io ho finito Ci sentiamo tutti belli trasformati Ok visto che avete finito Che ne dite se ci mettiamo Pure pure si è cresciato Sono cresciato tutti È morto il pacchetto Sii Una alla volta muoiono tutti qua dentro Ma che è Che bello Chi sarà il prossimo No 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 What the fuck Che è successo L'ho one shotata Comunque Si ma comunque questa cosa non c'è l'armatura No c'è È da mettergli È da metterla Quindi C'è la tua tomba qui Vieni qui Ottimo No sto tipo morendo Sono andata a finire No C'è qualcosa che non va Allora facciamo così Siamo rimasti Io e Hildan Uno è leftato Una è crashata Una è morta E è crashata cadendo L'altra non gli sapreva l'inventario È crashata da sola Siamo rimasti solo io e Hildan Che dominiamo questa serie E secondo me possiamo dire pure Alla prossima puntata Lasciate un bel mi piace E condividete il video Ciao Ciao Alla prossima Ciao Ciao